ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi video decorazione agenda della settimana e siamo già a fine gennaio quindi la settimana che va dal 28 di gennaio al 4 di febbraio come al solito partiamo da zero facciamo tutto e vado a inserire anche il divisorio del mese quindi spostiamoci sulla scrivania e iniziamo la decorazione allora eccoci qua questa settimana partiamo dall applicare il washi che così poi andiamo a fare tutti i giorni allora questa settimana ho scelto di utilizzare per i timbri questo tamponcino con i colori verdi dal più chiaro più scuro e come washi appunto ho scelto dei colori che stanno sul tono del verde allora questo per la divisoria dei giorni e questo invece come salvabuchi quindi iniziamo subito con lo così Grazie a tutti. Come potrete come avrete notato ho inserito male il foglio nella foratrice e ho bucato male quindi ho corretto semplicemente ripassando sopra un altro pezzettino di wash e rifacendo i buchi. D'altronde ogni tanto qualche pasticcio mi succede, capita. Allora stavolta appunto ho fatto la divisione in questo modo perché qui metterò 29, 30 e 31 di gennaio. Entro qua e inizierò con febbraio, quindi per queste settimane 4 giorni saranno dove c'è il weekend, però sarà giovedì e venerdì piccolini e sabato e domenica più grossi. Prima di andare a timbrare questi, allora questo mese ho creato il divisorio appunto tema San Valentino, l'ho fatto sempre, è un disegno che ho fatto io digitale con l'iPad Pro, quindi lascio nel pallino il video dove vi faccio vedere che ho fatto il disegno. Ho già bucato quindi andrò a inserirlo, l'unica cosa è che qua dietro stavolta farò il calendario di febbraio con le varie date importanti eccetera, quindi prendo la mia stamping tool e andiamo a fare il calendario. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!